E' un'altra parte. Quattro ore. Dimmi chi è. Dimmi chi è! Non è nessun accanto! Ormai non mi hai chiamata? Stavi lavorando. Vorrei averti incontrata prima. Adesso è troppo tardi. Papà! Vuoi riconoscere mia moglie o ti diverti a creare i miei problemi? Dillo. Come faccia? Mettetela! La testù dovessi vedere bianca con un altro. Me lo dici subito. Ci siamo solo fatti delle gran belle scopate. Fermi! Si può sapere cos'hai? Domani torniamo. Io vado a casa mia, tu da tua moglie. Perché tu sei pronta a lasciare il tuo compagno andato? Hai già deciso tutto. Pensavo che saremo stati in due a decidere. Assiccola. Ma se ricordi che sei quando sei quando hai certo. Ma se ricordi che te sei pronta a lasciare i miei problemi. Voi c'è? Voi c'è?